Uno in meno! Pulsa la cassa di scorte! Esplosivi innescati! Sparate ai nemici che si avvicinano! Ancora esplosivo! Stai dai! Alla un'idea! Ho il bersaglio! Il nemico ha disinnescato i nostri esplosivi! Merto, merto! Prendete! Prendi questa! Cariche piazzate! Vediamo di farle esplodere! Hanno disinnescato le nostre cariche! Tiro una frenata! Sì! Il nemico è eliminato! Tiro una frenata! Ecco dai riforni messi! Ma che cazzo! Un cadeau d'otroi! Ma che cazzo! ecco qualche proiettile cariche piazzate proteggetele fino all'esplosione versaglio a terra prendi questa granata lanciata esplosivi innescati sparate ai nemici che si avvicinano granata prendete una granata uno e meno lancio una granata possiamo ancora farcela le risorse sono a metà munizioni ne ho beccato un altro sto lanciando una granata manca dopo qua cariche piazzate vediamo di farle esplodere parco esplosivo tiro una granata è fatta abbiamo finito e li abbiamo sconfitti lavoro eccellente parco esplosivo Grazie a tutti.